La ricetta di oggi prevede la preparazione dei pomodorini marinati in bella visca. Gli ingredienti sono dei pomodorini rossi molto maturi, del prezzemolo tritato, del basilico tritato, dell'aglio, sale, pepe e olio. Il primo passaggio prevede la preparazione dei pomodorini che vanno spellati. Per fare questo lavoro devo inciderli con un coltellino, con un taglio a croce, senza toccare la polpa, devo incidere soltanto la pelle del pomodorino. Il secondo passaggio è l'eliminazione della pelle dei pomodori. Per fare questo deporto a bollore dell'acqua in un pentolino e tengo pronta a disposizione una ciotola con dell'acqua e ghiaccio. I pomodorini che sono passati nell'acqua e ghiaccio adesso sono facilmente spellabili. Infatti basta sollevare leggermente la pelle e liberarli completamente. Dopo aver sbucciato tutti i pomodorini, li sistemate in una piccola ciotola e li condiamo con dell'aglio tagliato a fettine, che poi può essere anche eliminato, del prezzemolo, del basilico, sale, pepe e olio. I pomodorini così conditi vengono lasciati marinare per 3-4 ore, dopodiché saranno pronti per essere consumati e saranno un perfetto accompagnamento per una grigliata sia di carne che di pesce o per un arrosto estivo.